L'esperia di coach Zanelli si muove a passo spedito verso la nuova stagione, ma non mancano le novità. L'ultimo tassello per completare il roster era trovare un nuovo capitano delle Tigri Giallo-Blu, dopo Patrizia Zampedri, che ha salutato in estate la squadra dopo quattro anni insieme. Al suo posto, Jasmine Rossini, al secondo anno in maglia esperia. Non a caso, la nativa di Bollate è stata la prima conferma di questa stagione. No, in realtà non me lo aspettavo, quindi sono comunque contenta della nomina, è la primissima volta. Posso dire solo, come avevo già dichiarato, che spero di riuscire a dare un apporto, come ho sempre cercato di fare, anche ovviamente all'esterno del campo. No, ci sono rimasta, ci sono rimasta e comunque ringrazio la società per questa nomina e spero di essere all'altezza. Nel frattempo, Rossini e compagnie si preparano sotto le direttive di Zanelli e il suo staff a quello che sarà il primo vero test per l'anno prossimo. Al termine della settimana, la terza di preparazione arriverà alla Volley Crema 2.0, formazione che ha ottimamente figurato lo scorso anno in B1. L'appuntamento è sabato 9 settembre in Viale Cambonino, con inizio previsto intorno alle 17. L'incontro sarà anche disponibile in streaming sul canale YouTube dell'Esperia Cremona.